Musica Salve a tutti ragazzi e ragazze e darchini e darchine dal vostro Dark Chaos 92 Oggi siamo ritornati qui di nuovo su Minecraft nella serie ovviamente, nella seconda serie ovviamente Oggi praticamente ho voluto registrare questo secondo episodio perché avevo richiesto 50 like Ma siamo arrivati a 31-32 like e quindi ho visto il vostro interesse comunque mettendo tutti quei like E tu che vuoi da me? E tu che vuoi da me? Vabbè ammazziamolo, ho visto il vostro interesse mettendo tutti quei like, ho 31, va bene dai Per stavolta faccio il buono Quindi se volete un prossimo episodio dobbiamo cercare di superare quei 31 e arrivare a 40 Ogni volta che arriviamo a, che ne so, se arrivati a 30, il prossimo episodio voglio 40 like Il prossimo episodio 50 e man mano, man mano salire Allora, vediamo un po' la situation qui Allora, io nei commenti ho visto molta gente stronza che mi ha detto Fatele da solo le cose, devi riuscire da solo E poi mi ha detto anche Eh, puoi vedere la wikipedia, wiki di, come cacchio si chiama, di minecraft E c'è tutto quello che ti serve Io vi ringrazio ragazzuoli Però io voglio che me lo dite voi, no? Come si fanno? Cioè, siete voi quelli che siete iscritti al mio canale Quindi dovete aiutarmi voi Poi c'è stato un mio carissimo amico, che sarebbe waspera Che mi ha scritto Io mi piscio dalle risate Cioè, non ti dico niente Tu sei stronzo, cioè, perché sei stronzo, no? Perché è ovvio che sei stronzo, vabbè Ma comunque, tralasciando questo Allora, dovremmo fare, dovremmo fare un altro piccone in pietra Questo me lo ricordo, che è così Ok E fino a qui ci siamo Poi, devo fare il coso quello di carbone Quindi, se non vado errato, l'ho visto da Stepney Eccola qua, la fornace Oh Impresa compiuta E si compie la... l'impresa E poi, e poi, metto uno qui E mettiamo la carne Oh Aspetta, forse è al contrario Questa qua è co... Ma, perché non va, regà? Carne marcia, no? Che stupido, è marcia la carne Ma quanto sono stupido! Vabbè, comunque Allora, dovremmo farci la casetta intanto, no? Quindi io direi intanto di andare qui E fare gli assi da bete Per costruire la nostra casa Facciamo un bel po' Ok Quindi, adesso... Però, prima di costruire la casa, ragazzoli Io vorrei farmi Una cassa Eccola qua Infatti, io lo sapevo Mamma mia, quanto sono pro! Quanto sono pro! Comunque, stavo dicendo Vorrei farmi una casa Dove inserire tutta la roba Che comunque Non mi serve Tipo... Tipo, ecco Tipo che Mettiamo così Ok I bastoncini li mettiamo qui Li lasciamo qui E questa roba La dobbiamo mettere qui Le pietre qui Dovremmo fare una spada Una spada Però la spada Io non so come si fa E se si fa così? No Non si fa così Come si fa la spada? Madonna mia Che vuoto di memoria Aspetta, così che cos'era? La zappa La zappa va bene E ma c'era anche La spada Come si fa la spada? Non è che è tipo Così Vediamo Che è sta cosa? Ascia Va bene Anche l'ascia mi va bene Ma io voglio la spada anche Come si fa la spada? Raga, la spada Ho il mangiare Raga Devo mangiare Se non mangio so cazzo Muoio Va bene Allora Intanto cerchiamo di prendere Un altro po' di pietre Per cercare di fare Comunque il La spada La spada La spada La spada La spada Io raga Non mi ricordo Come si fa la spada Non sto qui tutto il giorno Raga Non sto qui tutto il giorno No Questa è un'altra fornace Va No Non va bene Non voglio la fornace Non voglio la fornace Voglio una spada No Come si fa la spada Non voglio andare su wikipedia Andare a guardare Come si fa la spada Però questa è pietra Non è ferro Ma che stupido Che sei Cos'è questo Cos'è Diorite Mai sentito nominare Vabbè Comunque Dobbiamo Eh raga Dobbiamo trovare Una pelle Un qualcosa Un qualcosa Basta che non troviamo i creeper Ecco Ecco Vieni fini Vieni Bravo No No Devi venire da papà Devi venire da papà Vieni da papà Bravo Vieni da papà Non scappare Oh Dammi il pollo Dammi il pollo anche tu Bravo L'uovo va bene Dammi il pollo pure tu Ok Bravissimo Oh Che cazzo è sto coso Un lama Ai Mi sputa Mi sputa Ma che cazzo Oh pezzo di merda Ma che cazzo Oh 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 Devi morire Oh eh muori Eh Michia non mi ha detto niente sto frocio Ma guarda un po' questo che mi sputa Ma come ti permetti Oh eh vuoi morire gallina Eh Oh bravo Ok Perfetto Dai Diciamo che Comunque Un po' di Di mangiare L'abbiamo preso Qua c'è un'altra gallina Raga Ciao Vieni Grazie Uh C'è una caverna qua sotto Sì ma raga Ma la nostra base Eccola qua Ok Allora Adesso dobbiamo andare a cuocere Il pollo Crudo Bom Grande Vai così Cuoci 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 che ci serve il cibo Ci serve cibo Pollo cotto Aspetta ma se lo tolgo Grande Oh va bene Intanto prendiamo l'uovo Facciamo così Perché l'ho buttato giù No Vabbè Facciamo così Non esce niente Il pulcino E' il pucino Il pucino Pio 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 Vabbè Comunque Semi Bla 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 No La cassa è qui Quindi facciamo così Mettiamo Diurite Tutto lì 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 E io direi di incominciare Mentre fa il pollo cotto qui La nostra casetta In fondo al mare In fondo al mare Facciamo qui Al lato del mare Facciamo così Oh proprio così Perfetto Così E questo albero Se ne deve andare Cerchiamo di togliere comunque Tutte le parti Che non servono Perché questo Te ne puoi andare Grazie Duro come il legno Sì lo so Sono duro Vabbè Basta Comunque Cerchiamo un po' Di togliere Questo cosino Dalle Dai cabazzizi Eccoci qua E abbiamo tolto L'alberello Adesso possiamo Continuare Ok Quindi facciamo Più o meno Quanti strati Due strati vanno bene Dai Due strati vanno Ok Va bene Sì Diciamo che non sono due strati Però Ok E qua Non vai bene Tu togli Bravo Un Uno Due Ok Uno due 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 Qui ovviamente Qui dentro Ci metteremo Anche La Come si suolchiamo Come si suolchiamo Come si suolchiamo Abbiamo finito il legno E la Questa No va Questa Togliti Ok Perfetto La mettiamo qui Eccola Eccola La cassa Ok E mettiamo Tutta questa Roba No questa No questa Mi serve Questa roba Che comunque Non usiamo Completamente L'alberelli Io intanto Li piglio Perché li voglio Mettere qua fuori Così Il pollo Grazie Grazie Si magna Grande Allora Stavo dicendo Metto gli alberelli Qui 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 Lì Vabbè Un po' Comunque Per fare Tipo Una giungla E cacchio Non so Anche se Più o meno Qua poi Dovrà Vabbè Ma sti gran cazzi Allora 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 Però intanto Comunque Cioè Ce la stiamo facendo No Allora intanto Togliamo questo Alberello Da qui pure Appena finisco Di togliere Questi due alberi E Vabbè Ci vediamo Tra poco Tipo Io la parte La devo tagliare Però intanto Sto parlando Ugualmente Che senso Che senso Cioè Spiega Che senso Ha parlare Mentre si fa Un video Che la parte La devi tagliare Va bene Va bene Non è un problema Ma tu dimmi Dark Dopo che tu Stai rompendo Questo albero Spiegami E E Come fai A rompere Quello più sopra Dai Dai Ma Cioè È logico Che io faccio così No Ma dai Su Su Ah Vedi 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 Ok ragazzuoli Abbiamo tolto I due alberi Oh E tu che ci fai qua Fungo Allora Abbiamo tolto I due alberi Adesso Abbiamo qui Ok Quindi andiamo Nella crafting table Come cacchio si chiama E andiamo a farci Tanti Passi da bene Oh Uno stack Andiamo se arriviamo a farne due No Uno stack e mezzo Però Dai Sti gran cazzi Ragazzi Sti singhiozzi Oh Vabbè Vai Continuiamo così Ok Perfetto Sempre Come stiamo continuando E Uh Andiamo finendo Ok ci sono Perché questo qua L'abbiamo fatto No Le cose si devono fare giuste Eh Questo pezzo Non va Ok Oh Perfetto Quindi Continuiamo così Come stiamo continuando Olè E la nostra casetta Non è ancora finita Perché Perché Qui Ci dobbiamo fare Lì l'entrata Quindi Così Ok 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 E dovremmo farci anche una sorta di Ok Sì Sì Lì mettiamo quello Qui Perfetto Così almeno abbiamo l'entrata Tutto lo stiamo andando Ok Quindi Adesso dobbiamo riempire Tutto il pavimento Ovviamente Di questo colore Il problema No Cioè diciamo che non c'è tanto problema Non penso ci sia un problema Uh No Non mi dire che si può fare Uh È notte E il letto Come cacchio si facevamo Come si faceva il letto Regà No dai Non ci posso credere Non mi ricordo come si fa il letto Con la lana Mi avevano detto Cioè Ho visto fare da Da Stepney Ho visto Stepney In un video Dove praticamente faceva Con la lana Il letto Però mi chiamo Alla trovare adesso Una pecora Porca Porca Regà Come faccio Ma non voglio Le cose lì Allora Devo fare Le luci Le lucette Come si facevano Ok Forse ho capito Il carbone E Non mi ricordo Vabbè Fammi entrare Grazie Entrissimo Si pude Ok Si dovevano fare Tipo No Forse qua si facevano Tipo così Eccole 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 Uh 16 Grande Perfetto Allora intanto Mettiamo una qui Per far luce Una qui Un'altra lì Una la mettiamo qui Una Una qui Oh E abbiamo fatto un po' di luce alla nostra Tra virgolette casetta Adesso 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 C'è un altro problemino Che Dobbiamo mettere le luci Nel traggito Così almeno Sappiamo Eh Eh Dove stiamo Andiamo No Fuori Oh E' morto Trocato la carne marcia Che comunque Vabbè Intanto mangiamo un po' di pollo Un altro po' Tanto poi andremo a ammazzare Sti gran cazzoli Eh Ragazzi Ho un problema Il problema Adesso E' Dove sono le pecore Ta 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 Perché Purtroppo Non so dove sono le pecore Allora io intanto Volevo fare una bella cosa Volevo fare una sorta di farm Al lato della mia casa Vediamo se riesco a prendere un po' di semi Ok Così da fare anche Vedete 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 che mi dà i semi Oh a me sta bene così I funghi non mi servono Sti cosi qui Andiamo 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 Tanto le luci ce le abbiamo Sappiamo dov'è casa nostra Però io Cioè volendo potrei fare Oddio ragazzi è un creeper Rischiamo? Sapete che vi dico Vaffanculo Rischiamo Così muoiono tutti Io mi piglio tutti questi blocchetti Che mi interessano Hai visto? Eh meglio di così ragazzi Cioè Questa che cos'era? Sabbia Ah no era sabbia Ma la sabbia non è che ci serve Muori? Muori? Oh oh Muori Grazie L'uovo Dammi l'uovo Dammi l'uovo Grande Perfetto Ok Quindi adesso Io volendo Dico Volendo Intanto devo Allora 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 Intanto Facciamo Uno Due Ok Scusami 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 Dove Dove Mettere le porte Qui Le porte come si facevano Beh Beh Intanto Mettiamo Una qui E una qui Buono Una la mettiamo qui Un'altra qui Va bene No Diciamo che Comunque Va Allora E dobbiamo Comunque Fare il pezzo sopra Della casa Per fare il pezzo sopra Della casa Dovremmo prendere Un bel po' di ferro Oh 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 Vabbè Sti grancazzi Per prendere il ferro Dovremmo andare qui E comunque Ferro ce ne sta D'abbondanza E ci serve anche Comunque Il carbone Per fare altre torce Perché se noi Facciamo torce A molte altre torce Possiamo Guardate dove il carbone Guardate dove il carbone Guardate quanto carbone c'è Mamma mia Mamma mia Quanto bel carbone Dai Dammelo tutto il carbone Dammelo tutto il carbone Dai bravo Bravo Dammi tanto carbone Tanto Lo voglio tutto il carbone Dai così facciamo tante belle lucette Dai Ancora carbone Ancora carbone ragazzi Ancora carbone Ehi Non è il carbone Eh Non lo devi fare Tutti il carbone Eh 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 Se no poi Eh Se no poi Dark Si incazza Tutti i fotti di carbone Vediamo se c'è un altro Mi sa che non c'è più carbone Sapete E beh Però Comunque 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 Stiamo per finire la casa No Quindi l'importante È Cercare di finire la casa Finiamo il tetto Vediamo se ci riusciamo Ehm Dove 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 Oh Intanto Prendiamo Ui Vattene Bravo Eccolo qui Il sedici di carbone E facciamo subito Che il pollo Lo mettiamo qui Mettiamo uno Perfetto Poi prendiamo Sto uovo Vediamo se spunta Lo spunta In ghecchia Ehm Ehm Ok Quindi facciamo adesso così Mettiamo tutta sta roba Che non mi serve Ok Perfetto Questo Mettiamo qui Questo qua Il granito Potrebbe Potrebbe servirci Ma Vedremo E Adesso Dovremmo fare No Ho capito Non si fanno qui Ma si fanno nella crafting table Sicuro Ecco Infatti Che avevo detto No 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 Vanno bene 60 vanno più che bene Vabbè Tanto poi il carbone Ne troviamo a bizzeffole Allora Adesso dovremmo fare La parte superiore Quindi Così Andiamo così se va bene Va bene così O no No Forse conviene farla di sopra No Allora La facciamo da sopra Che è meglio Allora Facciamo una cosa Allora Facciamo Uno Ok Così possiamo salire su E su Facciamo il pezzo del tetto No Che dici Ok Però dovremmo fare Tipo Ecco Infatti così Sperando Sperando che il ferro ci basti Regà Eh Ma mi sa che non ci basta No no Non ci basta Anche perché dobbiamo Chiudere poi qui Vedete Eh no no Non ci basta Vabbè Allora Dato che noi non ci basta Andiamo a prendere un attimo Un po' di ferro Eh Ecco Cominciamo da questo muro Qui Intanto dobbiamo scavare Perché ci serve anche Il Il carbone Io intanto sto sudando C'è caldissimo Qui in Sicilia Ragazzi Mi muore il caldo Praticamente Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Siamo a 9 Diciamo che Ci serve uno stack Più o meno No 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 Ci vediamo Appena ho fatto Lo stack Bella Abbiamo finito il piccone Andiamo a fare ovviamente Il piccone L'altro piccone Che io ormai sono pro Ormai c'è C'è così Easy Easy Ne facciamo tre per sicurezza Raga Ok Quindi 1 2 1 2 E 3 Ok E si ritorna di nuovo A fare Le pietre E dopo Ok ragazzuoli Abbiamo fatto Un bel po' di ferro Direi due stack e mezzo Però Comunque Ci siamo E adesso possiamo finire di Possiamo concludere Il nostro Tra virgolette Tetto Della nostra casa Quindi andiamo avanti E facciamo una riga Per tutto Il percorso Del bordo Della casa Che poi Questa riga Andrà comunque A richiudere Il tutto Quello Che c'è dentro Ovviamente Quindi Si incomincia Vedete No Vedete Sti gran paio Di Balance E il piccone Il piccone Eccolo qua Il piccone Il piccone Ok Perfetto Perché Dobbiamo Perché Eh mamma mia Eh mamma mia Eh mamma mia Mamma mia Ok Si fa così Perfetto Io ragazzi Questa è la prima volta Che gioco a minecraft Come vi ho già detto Volevo portare una serie Perché tutti fanno minecraft Allora ho detto Oh Si gran cazzo Lo voglio portare pure io Manga Voglio fare il mio mondo Il mio mondo Voglio fare Allora Perché non fare Il mio mondo No Dove comunque Facciamo tutti Le cose insieme Mi dite Anzi a proposito La prossima volta Ditemi Se volete Che faccia io Qualche struttura Un qualcosa Ditemi voi qualcosa Ragazzuole Qualcosa da fare anche Che io Mi cervello Ma Provo a farla Cioè Capite E fatemelo sapere Ragazzi Nei commenti Ditemi se vi interessa Qualcosa in particolare Che io faccia E sti gran cazzo E la faccio pubblica Senza alcun problema Stiamo giocando Ok Perfetto Ok Quindi Stiamo quasi finendo Ragazzuoli Finiamo quasi Il tettuccio Adesso Io non so Come si fanno Le porte Perché vorrei fare Le porte E che palle Vado a fare sempre Il coso sbagliato Però va bene Forse ragazzi Ci arriviamo Precissi Precissi Sapete Vediamo 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 No ragazzi Ci arriviamo Precissi Precissi Veramente E comunque Come vi stavo dicendo Ragazzuoli Appunto Se volete Ditemi Qualcosa E comunque Possiamo fare insieme Cioè Senza alcun problema Nel senso Voi mi dite Che ne so Dark Provo a fare Il fungo Di super mario Oppure N'esempio Dark Provo a fare Che ne so La tua scritta Dark Causa nato 2 Oppure Dark Che ne so Provo a fare La scritta I mates Oppure Qualunque cosa Cioè Provo a fare Una struttura Quella di pokemon Cioè Qualunque Qualunque cosa Vogliate Capito Io cerco di accontentarvi Al Comunque Per come Riesco io No Non sono Un pro Su minecraft E perché qua Ah perché Sì sì Allora Qui io Ragazzi Volevo fare Una piccola farm Dentro no Vediamo eh Perché volendo Si potrebbe fare Perché si fa Così Vedete E poi io Pianto i semini Guardate Eh questo Più o meno Lo so Però il problema È che non ho più semini Eh GG Allora Qui ovviamente Non ne ho Non ne ho neanche Però va bene Dai ci sta Ci sta Allora Raga Abbiamo finito La casa Cioè diciamo Abbiamo finito Dobbiamo fare ancora Le Come si chiama Le Le porte Che non so Come si fanno Ditemelo nei commenti Ragazzi Fatemelo sapere Nei commenti Come si fanno Le porte Così le faremo Al più presto Intanto io Per sicurezza Qui Ovviamente Mi Chiudo Perfetto Così siamo Tranquilli E io Volevo un attimo Capire Come si fanno Le porte Non è che si fanno Tipo così E con i bastoncini No No Così non si fanno No Non le farò mai Le porte io Va bene ragazzuoli Ci vediamo al prossimo episodio Mi raccomando Tanti like Cerchiamo stavolta Di arrivare a 40 like Per il prossimo episodio Grazie a tutti per la visione Ragazzi E mi raccomando Mi raccomando Cercate di condividere Il video con tutti Io veramente Vi ringrazio Per tutto il supporto Che mi donate E Che dire Sono felice Sono felice Perché Ho visto che comunque Mi piace Questa serie Ho visto che avete messo 32 like 31 32 like Sono veramente Veramente Contento per questa cosa E ragazzi Veramente Vi ringrazio a tutti A tutti A tutti A tutti Per Per aver visto il video Mi raccomando Tanti like Cerchete di commentare Condividere il video E supportarmi Come sempre 40 like Prossimo episodio Grazie a tutti Per la visione E Nella prossima Bella